Ha chiesto 1800 euro, un finto assicuratore ha tentato di raggirare un'anziana di tre base lega. Al telefono le ha raccontato che il figlio aveva avuto un incidente e che i contanti erano necessari per risolvere la pratica. La signora di 80 anni però non si è fatta ingannare, ha subito riattaccato la cornetta, telefonando poi al primo genito per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Il passo successivo è stato subito il racconto e la denuncia ai carabinieri.